Lei non conosce le mezze misure, così mi disse il presidente di commissione durante il mio esame di maturità. Per quale motivo? Perché io andai a seguire nei giorni precedenti al mio turno degli esami orali i miei compagni, insomma, che dovevano discutere. Il punto però è che avevo i capelli molto lunghi, molto lunghi, lunghi, fin qui non guardarmi con quella faccia, cioè anch'io ho avuto i capelli, non sembra, ma li ho avuti anch'io. E allora, però, non so cosa mi prese quel giorno, ma la mattina, prima di andare a sostenere questo esame, tagliai drasticamente i miei capelli. Non dico come adesso color pelle, però, insomma, era un taglio abbastanza sostenuto, tant'è che il presidente se ne accorse, non conoscendomi, perché era un presidente che non mi conosceva era esterno, però, non conoscendomi, disse, ma, insomma, lei, insomma, non conosce le mezze misure. E da lì partì il mio esame, tu puoi immaginare, io mi siedo, la prima frase che ho sentito è stata questa, e poi delle domande, e cominciai a parlare di Dante, se non vado errato, le prime domande che in ordine sono state queste. E allora, cosa voglio condividere qui? Voglio condividere alcuni consigli per poter comunicare meglio, alcune cose che io avrei voluto sentire, ma non ho avuto modo, perché non c'è stata la possibilità, non c'era un video come stai facendo adesso tu, per cui, certe cose, alcune sono quelle classiche, che in qualche maniera si conoscono, ma abbiamo forse dimenticato, o crediamo che non siano così determinanti, e altri aspetti che riguardano anche la voce. Ma attenzione, quello che ti dirò vale sicuramente per l'esame di maturità, ma vale anche per altre tipologie di esami che dovrai sostenere più avanti nell'età, insomma, non è soltanto destinato a un ragazzo che deve sostenere la maturità, ma anche quando siamo più grandi ci sono alcune cose che dovremmo rispettare comunque quando ci troviamo davanti ad una commissione. Ma andiamo subito, subito, subito al dunque, parlando di abiti confortevoli. Questo è uno di quegli elementi che suscita più polemiche in assoluto, perché diciamo l'abito non fa il monaco, e sentiamo dire questa cosa, perché si dice questo? Perché non è vero che se uno si veste in una maniera di importante come sia dentro questa persona, come sia capace, come sia competente e via dicendo. Sì è vero, però molte cose passano prima da un impatto visivo. Una persona affinché tu capisca bene, esattamente, se ti piaccia o meno, devi conoscerla di più, però c'è un impatto visivo di pochissimi secondi che si consuma attraverso la vista, quindi l'abito dà una certa importanza. Un altro esempio, se tu devi andare in discoteca o magari in un evento importante, ci vai in pigiama, sì vabbè, magari il pigiama party, però ti metti, indossi un pigiama per andare, non lo so, devi incontrare quella persona che ti piace, se finalmente ha accettato il suo invito a cena. In qualsiasi modo tu ti vada a vestire, comunque c'è un passaggio che dici mi devo vestire così perché devo incontrare quella persona. Allora vedi che c'è sempre un passaggio, che noi scegliamo quell'abito, perché l'abito sta comunicando qualcosa, passa un messaggio. E allora quando dobbiamo sostenere il nostro esame di maturità? Dobbiamo trovare degli abiti consoni a quell'attività e sicuramente che siano anche confortevoli. Cosa significa? Che io non è che posso andare, magari decido di indossare la cravatta rossa come ce l'ho io, probabilmente non ha un senso in quel momento, io non avevo la cravatta rossa come quando ho sostenuto l'esame, per cui ti dico, però uno decide in quella maniera, non mi trovo tanto a mio agio, però non significa nemmeno che vado in ciabatte e in infradito, o in infradito voglio dire, oppure con i pantaloncini corti, insomma è chiaro, devo trovare un abito giusto consono a quello che sto facendo e che io sia a mio agio. Il discorso però, questo elemento come si fa ad esempio quando si deve parlare in pubblico o quando si prova una scena anche in ambito cinematografico, televisivo, quello che si fa è quello di utilizzare gli stessi abiti quando noi stiamo parlando e utilizzare quegli abiti e fare una prova, cioè recitare, provare a vedere come ci si trova con quegli abiti lì, quindi se io ho deciso di mettermi una giacca, per dire, comincio a immaginare di essere durante il giorno della maturità con quella giacca, come mi trovo, in che modo, come sono, mi trovo a mio agio, riesco a muovermi o mi sento molto ridicolo. Ora, è chiaro che un pochino lo si sente perché se io non indosso mai alcuni abiti in quel momento dici, però cerchiamo di trovare questa via di mezzo perché ci aiuta anche a sentirsi già, provare, testare quella condizione che si verificherà da lì a poche ore o giorni e quindi questo ti aiuta anche a essere più efficace invece che arrivare lì e aver scelto un abito proprio così, che non ha mai indossato, e sentirsi poi nettamente a disagio, pensare troppo al tuo abito e dimenticare ciò che dovrai dire in termini di contenuti. Terzo aspetto, l'andamento, io ho scritto no skies per non dire parolacce, però l'andamento significa che se vieni in quel momento chiamato, perché ci sarà qualcuno che ti chiama, stai arrivando, devi presentarsi davanti, devi presentarti davanti a questa commissione che è una serie di persone che ti stanno osservando, degli insegnanti che ti stanno osservando, l'andamento, non fare l'andamento, oh zio, quella roba lì, tipo da manichino che si deve spostare, da marionetta, scusami, per cui cerchiamo di avere un andamento, tra l'altro, anche con una postura, poi ne parleremo meglio della postura, un po' di sicurezza in quello che stai facendo, non devi essere esagerato, ma neanche trascinarti, fare dei movimenti, insomma, devi arrivare lì con una camminata gradevole, perché quella cosa lì, quel movimento, per quanto sottovalutato, sta comunicando prima di noi, sta comunicando anche uno stato in cui ci possiamo trovare, perché sono agitato, mi muovo in una certa maniera rispetto ad un'altra, quindi non dobbiamo fare pressione eccessiva, perché poi alla fine se uno è talmente agitato non ci può fare nulla, però cercare di essere un po' più attenti all'andamento, nel mentre che ci avviciniamo a questa commissione, sicuramente ci aiuta. Numero 4, ti rispondi da solo, c'è scritto mani in tasca, che significa? Cioè, evitiamo, se io devo arrivare lì, sempre stai mani in tasca, aspetta, adesso qui non li si vedono, ti metti così, le mani, ti immagini, tipo un pistolero che sta arrivando lì a parlare, queste cose, adesso guarda, io ho delle mani in tasca, fra un po' le devo togliere, che non riesco proprio, non si vedono, ma perché in questo momento, io, a parte che sto limitando la gestualità, e poi non è una buona immagine che sta arrivando le persone che hai davanti, e delle volte queste cose si fanno perché siamo agitati, non è una cosa che uno fa, perché generalmente, anzi, uno dice, ma sai, non l'ho mai fatto quella volta, perché le mani, che è una parte espressiva di noi, inconsciamente cerchiamo di nasconderla, può succedere anche per quello, perché siamo intimiditi, quindi prestiamo attenzione a questo aspetto, di lasciare libere queste mani, e di non arrivare appunto con le mani in tasca, che è una cosa sottovalutata, ma anche quella la sua importanza, il cellulare, ecco, il cellulare è un'altra cosa, devi sostenere questo esame, basta, devi andare a controllare la feed, se c'è qualche novità, non ti preoccupare, non muore nessuno in quel momento lì, puoi guardare dopo, se c'è un aggiornamento sul tuo cellulare, perché questo, perché siamo sempre così, sempre con questo cellulare in questa maniera, fare guarda, guarda, guarda cosa c'è, cosa c'è, no, nel momento in cui soprattutto sei, sotto gli occhi di questa commissione, basta, il cellulare non deve esistere, anzi, non arrivare con il cellulare, che vedi che lo stai consegnando a qualcuno, lo consegni prima a un tuo amico, te lo fai mettere da parte, lo spegni, lo metti nella borsa, nello zaino, basta, mettilo via, dimostra di essere lì presente, e attento a quello che devi andare a fare, dimostra questa piccolezza, tra l'altro adesso mi viene in mente anche un chewing gum, che tu arrivi masticando, insomma tutti questi piccoli elementi, comunicano il tuo aspetto, hanno a che fare se ci pensi, ad un abito, anche questo, per cui questi elementi, banalissimi, non ti costa, sono veramente pochi minuti, che devi resistere, poi se hai impegni importanti, dico il presidente degli Stati Uniti, che ti deve chiamare al telefono, che so che al cellulare, ti chiamano sempre persone importanti, non puoi perdere quei secondi, pazienza, lo chiamerai dopo, gli dici scusami, caro presidente degli Stati Uniti, non ho potuto controllare il messaggio su WhatsApp, e ci sentiamo dopo, stavo sostenendo l'esame di maturità, penso che capirà anche lui, non ti preoccupare, quindi via questo cacchio di cellulare, numero 6, andiamo sulla parte comunicativa, del tuo dialogo che avrai, con questa commissione, occhio che in questo momento, l'agitazione gioca brutti scherzi, perché quando ci devono porre quella domanda, nella nostra testa, iniziano un sacco di cose, cosa mi chiede? adesso mi chiede quello, adesso mi chiede quell'altra cosa, succede questo, ascolta, ascolta, attenzione, anche qui, stanno iniziando a porti una domanda, che ne so, boh, mi parli, stavamo dicendo prima Dante Alighieri, ma puoi metterci qualsiasi argomento, mi parli allora di Dante Alighieri, tu senti Dante Alighieri e parti, parti, cominci a rispondere senza pensarci, e parli di Dante Alighieri in generale, magari l'insegnante in quel momento, ha un'altra cosa da chiederti, Dante Alighieri ti chiederà un passo particolare, ti chiederà di Paolo, ti chiederà di qualcuno, ti chiederà di Pasqualino, non c'è Pasqualino, no, non c'è Pasqualino, comunque ti chiederà di una persona particolare, quindi sta facendo una domanda specifica, tu devi ascoltare sino alla fine, non partire a molla, perché questo è quello che crea la nostra sensazione, la nostra ansia, la nostra agitazione, ci porta a fare questa, avere questa risposta impulsiva, ascolta sino alla fine, fermati un secondo, respira, e inizia a parlare, questo è il passaggio, devi ascoltare sino alla fine, perché molte volte, soprattutto quando la domanda, dipende dal tipo di persona, di insegnante che ti trovi davanti, potrebbe avere una particolarità, proprio alla fine, e tu invece parti a missile, perché vuoi, non vuoi che si crei questo vuoto, oddio devo rispondere, invece no, controllo, respiri e inizi a tranquillamente, a spiegare quelli che sono i concetti, che ti hanno chiesto, va bien, andiamo avanti, contatto visivo, questo è il contatto visivo, è una bella fregatura, perché il contatto visivo, cioè come ti dicevo prima, delle mani che io cerco di nascondere, se sono agitato, la cosa che faccio è proprio evitare lo sguardo, quindi non guardi, non riesci a guardare la commissione, ora non ti dico di farlo costantemente, perché io essendo cintura nera avanzata di timidezza, soprattutto in quel periodo della mia vita, ti capisco benissimo, il punto è che se non ce la facciamo, per l'intero dialogo che abbiamo con questa commissione, ogni tanto però dobbiamo farlo, dobbiamo sforzarci, non possiamo stare continuamente con gli occhi in questa maniera, perché pur conoscendo l'argomento, pur conoscendo l'argomento, la percezione che si ha è di persona insicura in ciò che si sta dicendo, per cui dobbiamo sforzarci di alzare un po' gli occhi, poi dipende dal tipo di commissione, magari c'è un insegnante amico, o un insegnante nel senso che conosci, o una faccia più nota, e allora magari alzi gli occhi verso di lui, o verso di lei, per cercare di iniziare a muovere questa testa, poi tra l'altro ricordati di avere un minimo di occhio sull'intera commissione, quindi tu stai guardando, se hai delle persone davanti, cerca quando stai parlando, stai dicendo delle cose, di guardare tutti, cioè di seguire tutti con lo sguardo, non devi fare tipo un faro, fare così, poi ti giri, no, devi soltanto stai parlando, guardi prima una persona, poi un'altra, poi un'altra qui, insomma cerca di farlo, poi vabbè ogni tanto non ce la fai proprio, vai giù con lo sguardo, che cosa ti devo dire, se non ce la fai proprio, però dobbiamo sforzarci, a mantenere questo contatto visivo, poi, la gestualità, ora, la gestualità, come se già mi segui o conosci, parlo anche nei video, non ha soltanto una questione di, adesso lascia stare che sono un pazzo, che faccio con le mani così, però ti aiuta ad accompagnare il discorso, se io sto con le mani in tasca, già sbagliato, sto con le mani giù, non riesco, poi sto anche così, non riesco ad esprimermi bene, quindi io devo parlare, mi aiuta anche ad articolare meglio, io se faccio così, quasi quasi non riesco, mi miangio mezze parole, quindi, quando tu stai parlando, utilizza le braccia per spiegare un concetto, che ne so, ci troviamo in questo momento, Dante si trovava da qualche parte, poi è andato qui, in matematica facciamo questo rispetto a quest'altro, aiutiamoci con le braccia, oltre a far sì che venga bene, è messo anche un bel suono della nostra voce, come ti dirò tra qualche istante, quindi, utilizzare la gestualità per accompagnare, sottolineare i contenuti, se io dico, c'è una parte alta del nostro discorso, è una più bassa, c'è un numero alto, è un numero più basso, utilizzare questi espedienti, anche a livello comunicativo, ci rende più efficace, quello che stiamo dicendo, ed evidenzia anche il nostro racconto, la nostra spiegazione, ok? Andiamo all'altro punto, postura senza arroganza, prima abbiamo parlato di andamento, quando stiamo arrivando, ma anche quando siamo seduti davanti a questa commissione, certamente stare così, oddio adesso muoio, ok? In questa maniera, non comunica bene, quello che stiamo facendo, attenzione, è chiaro che tu devi conoscere i contenuti, devi aver studiato, questi non sono miracoli, d'altro canto però, spesso si rischia di vanificare, ciò che noi conosciamo, le nostre conoscenze, proprio perché stiamo, siamo così, con una postura che dimostra quasi, il fatto come, se si è impaurito, o che comunque non mi ricordi nulla, possono essere fatte diverse interpretazioni, se invece arrivo con una postura, oltre al fatto di presentarsi meglio, piuttosto che stare così, e arrivare con una postura corretta, che non deve essere una postura di sfida, o arrogante, che devi dire, oh, cosa vuoi da me, adesso vi faccio fuori tutti, no, quella cosa lì no, però almeno avere una postura accettabile, una postura mentre sei lì seduto, stai parlando, questo ti aiuta molto, perché comunica sempre, una tua immagine, più rassicurante, quindi anche più padrona, possiamo dire come immagine, di quello che stai dicendo, fermo restando, che la preparazione conta, e conterà sempre, d'altro canto però, questi elementi, se non sono gestiti bene, rischiano di vanificare, tutto il lavoro che hai svolto, fino a quel momento, dopodiché, andiamo alla voce, e il volume, certo, io potrei dirti, che l'uso della voce, a me sicuramente, che già da studente, della maturità, insomma a quell'età, avevo già fatto degli studi sulla voce, perché ne ero già appassionato, ma è importante, chiaramente, avere, dosare i toni, mentre sto dicendo qualcosa, tono alto, tono basso, questo però, magari se non conosci questi aspetti, non hai forse tempo, se lo stai vedendo, in prossimità, della tua maturità, questo video, però, altrimenti ti consiglio, di andare a vedere i miei video, dove parlo proprio di tono, in ogni caso, attenzione al volume, il volume, della voce, è proprio il volume, come alziamo il volume, e le persone mi devono ascoltare, il volume, che cosa succede? Quando noi siamo agitati, la nostra voce, può avere dei problemi di volume, problemi intesi come, o la abbassiamo tantissimo, ok, oppure, quindi non ci sentono, quindi ricordiamoci, di alzare un po' più, di un volume, non so, se immagini, la tacca, non so, di un autoradio, di un telefonino, devi alzare un po' il volume, perché le persone ti devono sentire, te ne accorgi, anche, da come, ti stanno osservando, i commissari, della tua, appunto, commissione, perché, noterai magari qualcuno che fa, oddio, non dico che faccia così, però, te ne accorgi, oppure, fa verso il suo collega, dici, aspetta un attimo, o addirittura, ti diranno, non la sento, e quando tu senti questa cosa qui, no, allora tu dici, beh, fermiamoci un attimo, e allora, alzi un po' più il volume, altra cosa, che è più rara, ma c'è, è il fatto che, quando sono agitato, alzo tantissimo il volume, e la percezione di chi ti ascolta, sarà, e ho capito, ti ho fatto una domanda, non è che ti devi arrabbiare, com'è, per dire, non è che devono percepirti, com'è arrabbiato, per cui, ricordati di prestare attenzione, a quello che è il volume, e osservando le persone, che hai davanti, te ne accorgi, anche di come stai dosando il volume, se è molto basso, o è molto alto, questi sono elementi fondamentali, perché non ti stanno sentendo, quindi capisci che, se non ti sentono, poi uno si infastidisce, immagina quando stai seguendo un video, e non capisci, non senti bene il volume, mamma mia, devo capire, devo sentire, lentezza, con pause, questa è un'altra cosa, quando io mi siedo davanti, ad una commissione, o devo sostenere un esame, sono agitato, è un po' come essere agitati, se sto parlando in pubblico, la cosa che mi viene da fare, è, oddio, adesso vado velocissimo, così, me ne vado da qui, perché non ce la faccio, a stare in questa condizione, come se ci fossimo, seduti su una sedia, infuocata, e quindi vogliamo scappare, vero, è così, perché alla fine si è agitato, non vedi che finisca, questa tortura, il punto però, che se non parliamo lentamente, se non scandiamo bene le parole, non facciamo passare, i contenuti correttamente, per cui la cosa da fare, e attenzione all'inganno, della nostra mente, perché pensa, di andare già lento, in realtà stiamo andando velocissimi, quindi ricordati di rallentare, a prescindere, quando stai parlando, rallenti, e rispondi, anche con delle pause, Giuseppe Pasqualino, è andato a fare questo, una pausa, e continui, nel mezzo del cammino, di nostra vita, non ti cercheranno l'inferno, credo, perché l'hai fatto già tanto tempo, però non lo so, comunque è per capirci, quindi c'è questa pausa, e dobbiamo essere lenti, quando rallentiamo, stiamo scandendo, anche le parole, ok, bene, allora, questa qui, non parlarti addosso, non parlarti addosso, è una caratteristica, classica, dell'alunno, che è impaurito, di quello che, che sta dicendo, io, da adolescente, 15, 16 anni, super rosso, paunazzo, e quindi non riuscivo più a parlare, mi parlavo addosso, che cosa significa? Che mi parlo intanto, mi parlo bello, e quindi, vado sull'altra parola, non si capisce cosa sto dicendo, in più però, la mia voce, non è portata, verso la persona, che mi sta ascoltando, per intenderci, immagina di essere, in chiesa, ti stai facendo una preghiera, ecco, la voce, te la stai cantando da solo, cioè, rimane lì, non va da nessuna parte, cosa, non è neanche questione di volume, è questione che tu hai paura, di portare la voce, e quindi ti stai parlando tra te e te, insomma, non alzi tanti, come senti quelle cose lì, cosa stai dicendo? La voce invece, in quel caso, deve arrivare sulla persona che è davanti, quindi devi portare la voce in avanti, ok? Buongiorno, buongiorno, non ti devi parlare addosso, cioè, immagina che questa voce fosse una pallina, ce l'abbiamo una pallina, pallina da studio, eccola qua, la pallina da studio, perfetto, immagina che sia questa, quindi, buongiorno, deve andare verso di loro, non devi sputare, e deve arrivare la parola, buongiorno, ok? Se invece, buongiorno, no, buongiorno, deve arrivare lì, ok? Questo significa, portare la voce, quindi non parlarsi addosso, non parli per ascoltare, cioè, non parli perché ti devi ascoltare tu, devi portare, ok? la voce, quindi cerca, già col volume, ma di stare proprio, ok, in quell'occasione, lo so che poi, ti fanno quella domanda, che non sai, allora, c'è un fun, sì, no, no, a parte che adesso ti dirò qualcosa, quando non conosci l'argomento, ti fanno quella domanda, che non sai, insomma, comunque, non parlarti addosso, scandisci le parole, scandire le parole, già, lo abbiamo detto, che quando sei lento, che stai comunicando, stai parlando, devi andare lentamente, e poi devi scandirle, appunto, le parole, buongiorno, come state, devi essere proprio, scandire fino all'ultima parolina, l'ultima vocale, che c'è nella parola, perché altrimenti ci mangiamo, e le persone ci mangiamo le parole, e non ci capiscono, buongiorno, no, buongiorno, io sto parlando di questo, e vi racconterò di questa avventura, no, dobbiamo scandire, anche in questo caso, tutto molto collegato, dopodiché, evitiamo le super cacchiolate cosmiche, che significa, ti stanno ponendo una domanda, ok, qual è la capitale d'Italia, non ti faranno questa domanda, non credo, però, qual è la capitale d'Italia, non cominci a dire, e allora spostandoci, andiamo verso il sud, poi saliamo, ci spostiamo in centro, poi facciamo il giro da Milano, e poi arriviamo a Roma, no, la risposta è Roma, la capitale è Roma, quindi, questo dobbiamo rispondere, né più, né meno, evitiamo quei giri di parole, perché, spesso lo si fa, perché non conosciamo la risposta, e pensiamo, pensiamo, di poter ingannare le persone, che ci stanno ascoltando, allora, la persona che ti ascolta lì, anche se, delle volte, conosci l'argomento, ma stai girando attorno, possiamo comunicare, quella percezione, di uno, che non conosce, quell'argomento, che la sta prendendo larga, perché non sa, che cosa deve dire, invece, dobbiamo andare proprio, essere concreti, evitiamo le super cacchiolate, i giri, i giri, sì, secondo, qua, là, niente, subito risposta, ultimissimo elemento è, se non sai la risposta, cioè, se non conosci la risposta, cominci a mentire, no, rispondi, semplicemente, questo argomento, non lo ricordo, questa domanda, non la ricordo, e meglio, apprezzeranno di sicuro, la sincerità, certo, se ti fanno dieci domande, e ti dici, questo non mi ricordo, questo non mi ricordo, questo non mi ricordo, anche no, lì è un altro discorso, per cui, questi sono, i 15, io ho detto 14, 15, non so neanche contare, però lascia stare, questi qua, sono quelli che vedi, che ti faccio vedere, e ovviamente, di base, serve una buona preparazione, perché, altrimenti, tutto ciò che abbiamo raccontato, sinora, cade, decade, e quindi, non è, valido, in bocca al lupo, e quindi, Grazie.